Buonasera a tutti, sono Lisa Bortolotti, presidente di Arcipelago Sciacca Emilia Romagna, che è un'associazione regionale che fa parte di un coordinamento nazionale di 14 regioni in tutta Italia. Noi ci occupiamo di economia, ma non di questa economia, che sta in questo momento crollando e non è un'economia che ci piace, non è al servizio dell'uomo. Vorremmo fare anche un po' ambiziosamente una nuova economia, creare un nuovo paradigma. Per fare questo ripartiamo dalla ricostruzione delle comunità, delle relazioni all'interno delle nostre comunità e anche delle relazioni economiche, perché pensiamo che mutando queste possiamo avere un impatto sistemico sui nostri territori e cambiarli radicalmente. Come fare? Allora innanzitutto dobbiamo avere un'idea chiara di come funziona oggi il sistema economico. dobbiamo darci un'immagine di quello che vorremmo fosse il futuro, qualcosa che ci piace, ma che ha la funzione di spronarci, a muoverci, per costruire qualcosa che non possiamo dire come sarà adesso, non possiamo sapere come sarà il futuro, ma ci deve far muovere, far attivare. E poi dobbiamo creare una serie di strumenti che possono aiutarci ora, in questo momento di transizione, dal vecchio che sta crollando a un nuovo che costruiremo in un prossimo futuro. Dove siamo ora? Siamo esattamente qui. Siamo su questa ripidissima montagna russa e siamo sul picco e stiamo guardando il baratro che ci sta aspettando. Questa è un'immagine che mi serve per spiegarvi l'andamento del debito pubblico. Noi abbiamo un'economia che è completamente monetizzata e finanziarizzata e quindi è completamente controllata dall'andamento di questo debito pubblico, che è una forma tipica montagna russa, si dice, una curva di tipo esponenziale. Oggi la moneta è diventata una merce, una merce che ha un valore in sé, è di proprietà di un soggetto privato che la emette a debito e quindi ce la presta molto gentilmente ed è una merce che ha un costo. Questo costo è il tasso di interesse. Il tasso di interesse che si svolge in relazione a un'unica variabile che è il tempo e quindi viene caricato sul capitale esistente aggiungendo debito a debito in ragione del tempo, a prescindere che noi abbiamo in mano quella moneta, a prescindere che noi la usiamo. Nel momento stesso in cui la moneta viene creata diventa un debito a nostro carico. È una funzione matematica, è una funzione di tipo esponenziale, ce la insegnano alle scuole superiori e la capitalizzazione composta dell'interesse e come tutte le funzioni matematiche non ha sentimenti e quindi non si dispiace di quello che succede a noi come esseri umani mentre lei svolge inevitabilmente i suoi effetti e li svolge a prescindere perché è nella sua natura di funzione matematica. Quindi qualunque cosa facciamo continuerà il suo percorso fino allo sfraccellamento a terra. Fiorfiore di economisti, di esperti giornalisti in questo periodo ci stanno dicendo cosa dobbiamo sapere, come stanno le cose, ma non ci dicono le cose essenziali. Una cosa essenziale è che un sistema come questo è congegnato in maniera geniale perché possiamo semplificarlo al massimo e questo non lo fa mai nessuno e possiamo trovare che abbiamo solo due opzioni. Abbiamo un debito, possiamo ripagarlo o cercare di ripagarlo. È il caso dell'Italia, ci sta provando, ammesso che sia possibile. Oppure falliamo, non riusciamo a ripagare il debito. La Grecia ne è un esempio, tecnicamente fallita. Ecco, il sistema è così geniale che sia che ci venga imposta l'opzione A sia che ci venga imposta l'opzione B il risultato sarà sempre il medesimo. Il nostro creditore, che ripeto è un soggetto privato, non vuole in restituzione della moneta che ci ha prestato la stessa moneta, non l'accetterà mai perché lui lo sa che la moneta non ha un valore che non è una merce, ma vuole quello che noi crediamo di dover restituire utilizzando la sua moneta quindi beni e servizi reali che facciamo circolare grazie al prestito che ci fa e tramite l'accessione di questa ricchezza reale il nostro creditore ottiene via via nel tempo l'accessione delle nostre sovranità mi riferisco alla sovranità monetaria che abbiamo perso da tempo oppure alla sovranità politica che stiamo vedendo adesso in maniera molto sfrontata che l'abbiamo persa oppure sovranità come quella della salute, quella alimentare o quella territoriale che ci viene sottratta lentamente nel corso del tempo e quindi quasi non ce ne accorgiamo cedendo sovranità chi la ottiene ha un controllo maggiore sulle nostre vite e quindi un potere maggiore sulle nostre scelte e sulla nostra quotidianità ma questo avviene perché noi siamo convinti di doverlo fare e quindi ogni giorno siamo leggermente un po' meno liberi di prima un'altra cosa che non ci dicono in natura non esiste niente tranne una cosa che funziona secondo il modello della montagna russa quindi con la curva esponenziale in natura funziona in questo modo la malattia tumorale noi utilizziamo un meccanismo, un sistema che ha lo stesso decorso di una malattia mortale comincia lentamente, non ce ne accorgiamo gli effetti si sommano agli effetti preesistenti e questo è l'interesse che si somma al debito quando ci accorgiamo dei sintomi siamo già nella fase esponenziale di questa curva e ormai è troppo tardi perché l'organismo è troppo infettato, è troppo malato è nel caso delle crisi economiche che noi viviamo e quando pensiamo di dover fare qualcosa siamo già sul picco, sulla vetta e non possiamo fare altro che sfracellarci a terra e nelle malattie è la soluzione finale quindi se capiamo che viviamo in un sistema malato il buon senso ci dice usciamo da questo sistema facciamole uno nuovo ora il futuro nessuno sa come potrà essere così come non si sa cosa potrebbe essere qualcosa di nuovo perché non siamo abituati a viverlo non l'abbiamo mai fatto però possiamo prendere esempio da qualcosa che funziona la natura, ritornando al discorso della natura ha questa capacità di avere regole vincenti infatti se noi osserviamo gli ecosistemi i sistemi biologici incontaminati che significa in cui l'uomo non è ancora arrivato vi ho messo il lago Vostok come esempio ma ce ne sono tantissimi abbiamo ancora la capacità di osservazione capiamo che hanno la capacità di raggiungere un equilibrio che vediamo essere prospero la natura ha questa particolarità raggiungere un equilibrio desiderabile all'interno di questi sistemi che funzionano i singoli elementi dell'ecosistema pianti, animali, minerali e tutto quanto sanno aggregarsi e sanno apportare il loro contributo secondo il proprio codice genetico quindi non vanno a scuola per imparare a farlo ma danno il proprio contributo non perdono la propria identità e si organizzano per arrivare tutti insieme ad un equilibrio duraturo può l'uomo prendere esempio da questo? sicuramente sì, può essere uno sprone a cercare di fare qualcosa di simile l'uomo si mette al sistema quando crea le sue comunità ci hanno infatti insegnato che noi esseri umani ci piace fare la guerra che ci piace essere competitivi schiacciare il prossimo in realtà sempre più studiosi ci stanno ripetendo in continuazione che non è così che noi siamo geneticamente progettati per essere individui sociali e quindi metterci in comunità e per essere naturalmente cooperativi e quindi generosi quando ci mettiamo sistema creiamo le nostre comunità e spontaneamente cominciamo a lavorare per l'equilibrio della nostra comunità e quindi mettiamo a disposizione la nostra capacità creativa in questo modo cominciamo a produrre anche beni e servizi per migliorare il benessere della nostra comunità ecco quindi che viene ripensata l'economia in un contesto completamente diverso e cominciano gli scambi solo a questo punto possiamo ripensare a uno strumento di pagamento veicolo dello scambio semplicemente perché abbiamo bisogno di ovviare a quello che è il limite del baratto e quindi uno strumento di pagamento un veicolo per gli scambi a disposizione di chi effettua gli scambi non certo è messo a debito non certo è messo a interesse ma noi oggi siamo in Italia e dobbiamo fare qualcosa che sia possibile oggi nel momento di transizione e in Italia dove ci sono delle normative molto stringenti in materia monetaria e quindi noi in Arcipelago Sheck abbiamo pensato al buono locale di solidarietà che è un foglietto colorato e non ha nessun valore viene messo da una collettività in questo momento dall'associazione gratuitamente e non è messo ad interesse non è messo a debito ed è di proprietà di chi lo possiede non ha nessun valore ha valore solo nel momento in cui si utilizza perché la sua unica funzione è quello di essere strumento degli scambi esattamente come il metro per il sarto che ha un'utilità finché serve altrimenti si rimette nel cassetto e non è una moneta perché non è convertibile e non ha nessun valore è semplicemente uno strumento come si applica? si applica all'interno del circuito ed è una riduzione volontaria di presto all'interno del circuito di chi fornisce beni e servizi viene applicato in percentuale da un minimo del 5% a un massimo del 30% questo significa ricadere nella normativa dello sconto incondizionato che è esattamente quello che vi fanno nella grande distribuzione la sua particolarità però è che non è uno sconto a perdere ma che chi lo accetta chi traduce concretamente lo sconto che applica lo può rispendere ecco perché solidarietà che cammina perché può essere fatto circolare all'interno del circuito funzioni ne ha tantissime all'interno di una comunità che decide di applicarlo una funzione è quella di ancorare la ricchezza sul territorio normalmente viene drenata all'esterno tramite la grande distribuzione tramite le grandi multinazionali di S.P.A. franchising fornitori di servizi tutto quello che noi produciamo la nostra ricchezza se ne va con questi soggetti mentre ancorando gli scambi sul territorio possiamo trattenere anche la parte moneta rappresentata da questi scambi quindi liberiamo risorse tantissime risorse parliamo di cifre grandissime e poi sarà la comunità stessa a decidere come utilizzare queste risorse maggiori investimenti scelte per sostenere i bambini piuttosto che gli anziani ciascuna comunità si riappropria della responsabilità delle proprie scelte mentre un'altra funzione che può avere lo S.P.A. è sicuramente quella per la parte di riduzione di prezzo che esso rappresenta consentire alla ricchezza reale cioè al bene o servizio scambiato di circolare non gravato da debito ma quella parte di bene o servizio che circola rappresentato dallo S.P.A. manifesta il suo valore esclusivamente per il reale valore che ha cioè per se stesso ricchezza reale quindi qual è il percorso che abbiamo fatto abbiamo ripensato il concetto il paradigma rimettendo al centro l'uomo l'uomo che fa sistema quindi ricostruisce le proprie comunità con elementi di relazione con gli altri ripensa l'economia perché ripensa gli scambi che effettua all'interno della sua comunità e quindi l'economia strumento e servizio dell'uomo per valorizzarlo e solo in un terzo momento lo strumento di pagamento che quindi diventa lo strumento per lo strumento e perde di valore in sé ecco quindi che è vero che siamo sul picco della montagna russa e stiamo guardando il baratro è inevitabile che succeda è matematico è nella sua natura però se ci abituiamo a vedere le cose da un altro punto di vista metaforicamente parlando un po' più in là c'è un ponte che attraversa il vuoto che ci aspetta è un ponte piuttosto agevole da attraversare altri l'hanno attraversato prima di noi in completa solitudine hanno fatto un percorso ci hanno tracciato la via però hanno fatto fatica perché erano da soli mentre adesso abbiamo la possibilità di unire le forze esattamente come fa la natura con gli elementi del sistema ricostruendo le comunità ma anche mettendoci in rete portando ciascuno di noi la propria identità e le proprie peculiarità rafforzando il gruppo e quindi facendo questo percorso tutti insieme il senso è che è vero che il sistema che crollerà presto però è anche possibile che lo lasciamo crollare completamente totalmente in solitudine io mi ringrazio questa per me è stata una grandissima opportunità perché la considero come un ulteriore passo verso quel ponte che intendo comunque percorrere e vi lascio con una frase mi ha illuminato molto di una delle tantissime studiose che ci stanno dicendo appunto quali sono i nostri elementi i nostri punti di forza per cambiare per pensare ad un nuovo lo penseremo come decideremo noi man mano che il tempo passa ma che ci sprona a puntare sugli elementi di forza di noi persone grazie tante